Ciao belli, bentornati sul punto di G su YouTube, ma siamo in collegamento diretto anche con Twitch, sto facendo il primo streaming del canale e c'è una notizia bomba. Sono usciti i primi leak delle RTX 3000 Custom e ci sono anche i prezzi, modelli e prezzi di una marea di aziende. Andiamo subito a vedere perché ci sono delle perle fantastiche. Allora, siamo sul sito dsogaming.com, dsogaming ha fatto vedere un pochettino la lista di qualche possibile leak, credo sia un leak comunque, non so se Nvidia abbia confermato evidentemente sta cosa. Ci sono i prezzi dell'RTX 3000 Custom. Allora, cominciamo col dire che vediamo innanzitutto la più costosa di tutte quante, di ogni serie. Abbiamo la 3090, la 3080 e la 3070. Quella di Asus, la Strix 3090, dovrebbe venire a costare 1589,99 sterline. Se noi facciamo il cambio, perché qui c'ho il cambiatore di valuta, dovrebbe fare 1769,71 euro. Secondo me la metteranno a circa 1799. Questa è la più costosa che c'è. C'è poi quella di la Xtreme 24G di Aorus, stesso prezzo. Cominciamo a scendere con la Aorus 3090 Master, 1559. Stiamo parlando sempre di bei soldini sicuramente, ma se si tratta di un sistema di dissipazione custom, con effettivamente lo stesso prezzo simile a quello del Design Founders, e forse riesce a dissipare più calore, per secondo me è una win-win situation. Ma davvero si riescono a fare belle cose. Andiamo a vedere poi la Gaming X3. Questa qua la devo vedere. Questa la devo vedere. Che questa qua, madonna quanto è bella. Madonna quanto è bella, a me si è sempre piaciuta come marca. Guardate quanto è bella. E anche abbastanza sobria. C'ha ovviamente i LED, qui sul lato come ce l'ha la mia. La mia 2080. Però c'ha anche questo graffio di drago, queste tre scalanature, se volete metterla praticamente in verticale, su un sistema di montaggio verticale. Bella, bella, bella. Poi abbiamo la 3080. La più costosa è sempre la Strix, che verrà a costare 799 pound e 99. Se faccio così. 890 euro. Secondo me la mettono a 899. Secondo me, perché effettivamente questi prezzi, o 879 o 890, però facendo il cambio sterlina euro in maniera precisa. Quindi non so effettivamente poi Nvidia Italia come deciderà di giostrarsela questa situazione. Poi ovviamente la Horus sta allo stesso prezzo e cominciamo a scendere. 749, 49, 698. Poi abbiamo la 3070, la Inno 3D, la iChill 4. 499 pound in euro sono 556. Quindi direi 559, se proprio vogliamo essere precisi. 30 euro in più della Founders. Ma se il sistema di dissipazione è effettivamente migliore, eh cavolo, non scherziamo assolutamente. Sono degli affaroni. Andiamo a vedere allora un pochettino le meno costose. Della 3090, la 3080 e la 3070. Ok. Questa qui è la 3090 di Inno 3D. 1399, vediamo 1399, 1399, 1557. Viene a costare approssimativamente come la Founders. Fantastico secondo me. Vediamo poi il sistema di dissipazione. Tre ventole. Classico, questa è plasticazza. Se però riesce effettivamente a mantenere le temperature in maniera accettabile, abbiamo vinto tutto. Se non vi piace l'estetica, vabbè, ci può stare. Come no. La 3080 invece, questa è quella che costa di meno. E la Eagle OC di Gigabyte viene a costare 649, 649, 722. E il prezzo è uguale, è uguale, porca miseria, a quello della Founders. Quindi è vero il fatto che la Founders verrà a costare di più per quanto riguarda il design. Ma se questa, se questa riesce a mantenere prestazioni più basse e clock più alto, raga, prendete questa. Qui ci sono, non danno effettivamente caratteristiche tecniche. Adesso vediamo la 3070. Inno 3D va bene, la Twin X2. 469, 469. E sarebbe lo stesso prezzo. Sì, è alla fine 519. Lo stesso prezzo della Founders, se effettivamente mamma NVIDIA vuole fare la brava. Ma secondo me le metteranno a 529 queste qua. Porca miseria, che bello. Io vi faccio vedere di nuovo la pagina. Ecco qua, qui abbiamo tutti quanti i prezzi. Le più care sono le Strix, ovviamente. Ma adesso ce le andiamo a vedere un attimo nel dettaglio. Perché questo sarà un video senza tagli. Io lo sto registrando direttamente da Twitch. Vi ricordo che streamo più che altro di pomeriggio. Quindi iscrivetevi e seguitemi su Instagram. Che avverto sempre quando sono live. Abbiamo le 3090. Porca miseria. Vediamo un pochettino la Strix. Poi c'è VGA. Ah, questa poi è bellissima. Vi faccio vedere una cosa. 1569. Ok, ma questo design noi già l'avevamo visto in un video passato. L'avevamo già visto. È bella, molto bella. Però c'ha 3 connettori da 8 pin. Quindi succhiera tantissima, tantissima energia. Meno male che ho preso l'alimentatore da 1200 watt. Poi, questa qua di VGA. Ovviamente non ci sono tutte quante le foto. Ma quella più bella che voglio farvi vedere è questa. Un attimo. State pronti perché qua vi spaventate. Avete mai visto Frankenstein? Ecco a voi Frankenstein. Il Frankenstein delle schede grafiche. Fino a qui tutto normale, giusto? Tutto normalissimo. Sono 3 ventole plastica. Molto plasticosa. Ma appena cominciamo a vedere qualche cosa da dietro. Guardate un pochettino. Qui c'è ovviamente il PCB. No, il PCB, chiedo scusa. La parte lamellare allungata per dissipare meglio il calore. Ma guardate un pochettino questi due buchetti. E voi direte, ma che cavolo? Perché ci stanno quei due buchi? Per il calore? No, per questo. Secondo me nella scatola ti mettono sta ventola. Che tu puoi collegare un connettore qua dietro. Puoi collegare un connettore qua dietro. E puoi effettivamente fare una configurazione push-pull. Cioè la ventola da sotto spinge aria sopra. La ventola da sopra succhi aria da sotto. E in teoria dovrebbe raffreddare di più il PCB. Il PCB. O comunque le fasi di alimentazione. Perché qui vicino ci sono le fasi di alimentazione. Madonna. Sincero, io lo dico e lo ripeto. Se KFA2 o Galac, come si chiama dalle parti nostre, mi manda questa scheda, io ci faccio una build. Io la metto nel mio PC, ci faccio la mia build personale. Però deve essere la 3090. Io lo faccio. Lo faccio. Non ci sono problemi. Lo faccio. Porca miseria. E' bruttina però. Se funziona, quello che dico io. Se funziona, cacchiarola, ben venga. Come altre 3090 abbiamo la Palit. Questa è la... Gaming Pro o sì? Sì, Palit l'ha aggiornata qualche... Ma che è sta roba? Madonna. Annido d'ape. Annido d'ape. Vabbè, davanti è abbastanza classica. Palit non aveva anche la versione Rock, qualcosa Rock. Non mi ricordo. Poi vabbè, c'è Zotac. La Trinity. Che, raga, è bella. A me questa piace. Davanti è Minimal. Molto, molto bella. Mi piace un sacco. Tre DisplayPort, un HDMI, credo 2.0. Guardate, dietro è molto bella. Il design è molto, molto bello. Con il logo qui. Molto bello. Questa mi piace. Mi piace molto. Guardate pure qua i colori. Molto, molto bella. Oltre a Zotac, poi abbiamo la InnoChill X4. La scheda grafica con la trovata di mercato migliore. La quarta ventola. Che là, effettivamente, cosa vai a raffreddare là? Boh, non lo so che bella. Forse è una ventola. Questa non è una ventola push. Non butta aria all'interno. Forse è la succhia, per forza. Perché ci sono già tre ventole che spingono aria sulla parte lamellare. Abbiamo solo sta foto, purtroppo. Abbiamo solo questa foto. Poi, di interessante, c'era Inno3D. Vabbè, questa è classica tre ventole. È abbastanza plasticosa. Ah, Horus. La Master. La Master 24G. Sì, questa è una foto presa appunto dal sito di Horus Gigabyte. Comunque, nulla di che. Purtroppo non ci sono dati nel dettaglio. Uh, la Ventus. Eccola qua. Questa è interessante. La Ventus. Verrà a costare 1.399. Pound sempre. 1.399. 1.500. Raga, è lo stesso prezzo delle Founders. Al massimo costeranno 20-30 euro in più. Ma porca miseria, c'è un sistema di dissipazione che sicuramente funziona. Questo è quello che sto... Che sto cercando di capire. Perché guardate quante grosse sta schede. È così. Sono tre slot. La mia sono due slot e mezzo, quindi sarà così praticamente. Così. Che figata. Bello pure. Il design è bello. Ma mi piace. È molto, molto... sobrio. Anche il backplate è bello. A parte sta X. Che schifo sta X. Non mi piace per nulla. Forse non avendo una soluzione di dissipazione così performante devono per forza togliere quella parte del... Dal backplate. Questa qui è bella. Gaming X Trio che abbiamo visto prima. La TUF di Asus. Se gentilmente me la apri. Sì, la TUF molto sobria. Molto sobria. Infatti non mi piace. È troppo squadrato. Mi sembra un mezzo che era armato. Capisco che TUF in inglese sia un richiamo alla parola... TUF. Però è troppo caro armato. Vabbè. C'è a chi piace. Se volete fare una build tutta nera. Che ci abbia come accenti... In pratica il... L'arancione e il giallo. Perché no? Ci sta. Bello. Bello, bello, bello. Queste sono le 3090... Che ci sono adesso sul sito. Poi ovviamente ci sono le founders, ok? Però... Adesso sapete cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere le 3070. Perché le 3080 hanno più o meno lo stesso design. 3000... Ooooooh... Adesso ci sono le tamarrate. Bella. Bella. Guardate qui. Ma cos'è la scheda grafica di Barbie? Eccola qua. Questa è la Palit 3080... Game Rock. Io non so che dire. Io non so che dire. Va bene gli RGB. Cioè pure a me piacciono gli RGB. Ma porca miseria. 499. Questa costa come la founders praticamente. Raga questa costa un poco più della founders. Porca miseria. Va bene. VGA. Ah è la 3070. Chiedo scusa. Non la 3080. Mi sono confuso. La stessa di KF2 o Galac. Dai fammi vedere la ventola sotto. Che mi faccio un'altra risa. Dai! Sarà una ventola da 80 mm comunque. Ma non serve. A sto punto mi compro io una ventola da 80 mm. con i LED RGB. Ci attacco una che voglio io. Non per forza quella. Come design strano non c'è nulla di particolare. C'è però la Twin Edge di Zotac. Guardate com'è compatta questa. Questa è piccolina proprio. Dovrebbe essere circa così. 20 cm. 23 cm. Più o meno. Perché le 3070 appunto... Guardate quanto è bella. Questa è bella perché è piccolina. In un case ITX o comunque molto molto piccolo. ci andrebbe molto molto bene. Carina poi. Ricorda molto la serie 2000 di Zotac. Mi piace. Bella bella bella. No è fantastico. Non so effettivamente quali altri... Ah beh. InnoChill. Che fa ovviamente anche la X3. La X4 per la 3070. Anche se non ha bisogno di così tanto potere di dissipazione. La... Eccola qui. La Twin X2. Sempre di Inno3D. Di 3080. Non è che c'è qualcosa di particolare che non abbiamo visto. Che c'è sfuggito. No. Lo stesso identico design delle 3090. Porca miseria ragazzi. Ci abbiamo un grande... Un enorme leak. Praticamente si passa da 1589. Quindi circa 1700 euro. 880 euro. Per le 3080. Per le 3070. Circa 550-560 euro. Per le versioni custom. Wow. 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 Grazie mille per aver seguito il video. Vi ricordo di venire su Twitch. Perché questa cosa l'ho scoperta in live su Twitch. E... Grazie mille di aver visto il video ancora. Sono scioccato dalla ventola Frankenstein. Ci vediamo a un prossimo video. Sempre qui sul punto di G. Sempre qui col vostro G. Ciao belli.